Anch'io un saluto, grazie per la partecipazione, grazie al Presidente Cinquestrini, all'Aeropoac per questa conferenza stampa che si è venuto a organizzare. Saluto tutti e poi dopo hanno un percorso delle slide, magari parlerò di quello che è in Romagna, di spiegare bene ai nostri imprenditori e alla stampa cosa vogliamo fare, perché assieme all'aeroporto possiamo fare delle cose molto importanti. Un buono, grazie.